Ciao ragazzi, ben ritrovati in questo nuovo video Come da me promesso, ve l'avevo detto Sarei ritornato su Brawl Stars Se avessimo raggiunto determinati Diciamo Like, cose particolari Quindi vi invito subito a lasciare like Se volete vedere un episodio nuovo di Brawl Stars Oggi Ritorniamo su questo gioco che vi è piaciuto un sacco E andiamo a tornare su questo game Perché voglio parlarvi un attimino De qualcosina Ok, il gioco in sé per sé non è Non è al top Parliamoci chiaro, non è al top Comunque io mi diverto Quindi se mi diverto posso portare quello che voglio Lo porterò e spero che a voi piaccia questa cosa Quindi invito subito ad iscrivervi al canale Attivare la campanella Perché se arriviamo a tot like Uscirà un episodio un po' pazzo Forse lo ritornerò a portare nelle live Insomma, ragazzi Mi raccomando Dovete farmi capire subito Del vostro Piacere In questo gioco Oggi andiamo a vedere il nuovo brawler Uscito Che si chiama Goose Andiamo a parlarne assieme Cerchiamo di capire un attimino Come funzia Quindi subito un bel like E niente ragazzi Entriamo subito su Brawl Stars Eccoci qua Perché è uscito il nuovo brawler Goose Io attualmente non andrò a shoppare l'offerta Costa 5 euro Ti danno pure l'emoticon Non ho intenzione di andarlo a shoppare Perché non ho intenzione di andarlo a shoppare Innanzitutto Per una motivazione molto 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 semplice Che tutti penso possiate capire Ossia il fatto che io Ragazzuoli belli Dovete sapere che ho Diciamo in generale Tanta tanta Diciamo percentuale di trovare nuovi brawler Ho la fortuna di Aver giocato un sacco a questo gioco Infatti vedete che ho tantissime vittorie Ho veramente fatto tante tante partite E in realtà non ho Non ho tutta sta fretta di trovare un nuovo brawler Cioè se andiamo a vedere adesso Per esempio La percentuale di sblocco di Goose Ragazzi vi parlo subito di Un bellissimo 1,25% Quindi diciamo che ogni 100 casse In teoria mi dovrebbe uscire Qualcosetta Ok parliamoci così Così per capirci Nonostante questo però vado subito a fare una partitozza E dopo andiamo a provare il buon Il buon gussettino Voglio vedere un po' come si comporta Se secondo me ha senso utilizzarlo Se non ha senso utilizzarlo Insomma vediamo subito Io gioco principalmente con Sandy Dovete saperlo già l'altra volta In questa mappa qua Diciamo che in molte mappe di footbrawl Secondo me Ha molto senso utilizzare A utilizzare la buon Sandy Quasi sono dimenticati totalmente la palla Ma questi sono altri dettagli Insomma subito io farei così Che in realtà non so quanto senso abbia Fare una roba del genere In realtà Abbiamo preso le pizze Perché qua sono Diciamo che hanno un team Molto molto preparato E Cioè se la sa giocare abbastanza bene Qua vado subito Così Metto subito questo in mezzo Che magari ancora gli faccio qualche dannettino Ok Faccio così Ok Questo qua lo stunnato Mi uccide Mi uccide Ma in teoria Se tutto va bene È riuscito a tirarla via Ma Non la vedo molto bene La situazione Subito questo in mezzo Che mi cura Doppio stun Che addormenta tutti E via Lei in teoria si dovrebbe curare La quale mi ha attraverso la mia ulti Ma Non è una grande situazione Non è una grande situazione Deve Giocare molto molto bene il bar Insomma È tutta una questione Di essere in grado Di giocare bene Allora Se lei in realtà One shotta E fa danni al pipe Eh niente Non ha fatto danni Alla mazza di nessuno Ok Doppio stun Ok Subito questo Così che cura Grande killante No I miei compagni Hanno lasciato libero Il bar In mezzo Giustamente Loro hanno segnato Nonostante questo Noi andiamo avanti Che è l'importante Per guadagnare Le varie esperienze Le varie cose Abbiamo una cassa rapine Una big box Nella quale in realtà Ciscono sempre questi 48 Brawler particolari Cose mistiche Non mistiche Sapete che io attualmente Sto dando i potenziamenti A Lolita E quindi continuo a dargli A Lolita Perché deve salire un po' di livelli Insomma Non voglio avere grandi problemi Quindi subito saliamo così Mi raccomando Se volete che scioppo il pass Fatemelo vedere Con un bel like ozzo Abbiamo 123 mila punti Non so cosa ci faccio Con 123 mila punti Violaci Quindi attualmente Rimarremo con 123 mila punti Violaci A quanto pare Dovrebbero mettere comunque L'opportunità di sbloccare Anche attraverso altre cose Perché cioè Non si può andare avanti Così che Che non posso manco Shoppa Le cose particolari Cioè Stanno a fare cose Veramente assurde Vi ricordo che il pass Purtroppo si può shoppare Soltanto Con le gemme Quindi dovremo andare Poi a pagare Il passettino Il passettino Per andarlo a shoppare In realtà ci basta Anche soltanto Il pacchetto Da 10 euro Però dovremo andarlo a shoppare Quindi Arriverà poi anche Lo shop del pass Che vi ricordo Dura Un fracco di giorni Veramente Una marea di giorni E' arrivato il momento Di provare il brawler Da voi richiesto Che si chiama Goose Che è quello nuovo Il brawler è super raro Probabilmente è il prossimo brawler Che troverò Dato che è super raro Mannaggia la miseria Se non mi piace Sto brawler è super raro Non so che fare Livello 1 Allora In realtà non so come funzioni Il raggio mi sembra Abbastanza lungo Tira si Del danno Abbastanza importante Ma Si carica Un colpo viola Con un fantasmino La ulti Anche lei è abbastanza lunga Non fa niente De che In realtà Tira soltanto Del Cioè Non ho capito Questo Questo Ce lo sto capendo Ragazzi Sono un attimo Sono un attimo Perplesso Vedo subito Come funziona Lanciamo questo In teoria Questo fantasmino Fa danni No non fa danni Cioè Non fa niente Non fa in realtà Sto fantasmino Cioè I tiri fantasmini Ma Ma che fanno Allora Andiamo subito Dobbiamo capire Dobbiamo capire Perché dobbiamo capire Andiamo subito A vedere qua Allora L'attacca E l'uni Balloons Gas Shorts Balloons At enemies After several Successive A spirit Will drop Collected Spirits Will restore Some health For you Or your team Ok Quindi lascia Dei fantasmini Quando facciamo Tanti danni E se qualcuno Del team O noi Ci passiamo Sopra Diciamo che Collezioniamo Della vita Otteniamo Della vita La super è Spooky Boy Si chiama Dice Gas Uses Spucky A balloon Creation And also His best friend To create A shield Around himself Or one Of his teammates A shield Around himself For one Of his Oh Ok ho capito Ritorniamo a provarlo Al volo Perché forse Ho capito Il funzionamento Di questo Gusen E allora Vi spiego Al volo Allora Subito Facciamo le hit Che ci servono Per caricare Il colpo Ci facciamo Hittare qua Spare Sparacchio qua No Aspetta Sparacchialo Lì Ci passi Sopra Guadagni Mille di vita Goloso E poi Invece E no Però vedi che non ha creato lo scudo qua Cioè non mi crea lo scudo Questo è un grave problema Cioè devo lanciarlo addosso Devo lanciarlo addosso a chi? A qualcun altro Vabbè Scrivetemi qua sotto nei commenti Come si fa ad attivare lo scudo Di questo bravo ragazzo Comunque mi sembra abbastanza forte In realtà il personaggio in sé per sé Il video termina qua Abbiamo fatto la prova Del nuovo Brawler Goose Il nuovo Brawler Superaro Spero che vi sia piaciuto Se volete vedere altri episodi di Brawl Stars Mi raccomando dovete spaccare Il tasto dei mi piace Dei like Dell'attivazione delle campanelle Un po' tutto Noi ci vediamo domani Alle 14 Qua sul canale Con un nuovo video Oggi poveriggio Il live all'ora 17.30 Ciao belli miei Ciao belli miei